Ha preso via in un certo istante l'attività di mila punti riservata alla Comunità, a ragazzi 12 mesi. Il punto della campana del meno 7, superato il passaggio, sul traguardo prossimo, passato del meno 6, vanno assegnati i primi punti vari, le disponibili per i punti che riusciranno a contestare. Punti dei meno 6, sono stati stati punti validi sulla prossima o traguardo, punti in paglia per noi. Ha guadagnato il punto numero 78, Simone Simone, ne ha guadagnato uno il punto 20 e 47, e la stessa è la luta. Questa è la passaggio. E' la passaggio. E' la passaggio. E' la passaggio. E' il punto, Marco Nossimone, che l'ha 3 punti commissioni complessivamente, single, attesto momento della gara. Quattro alla conclusione, ancora tutti da vado, con Sionio Tradi, Guadagno a Gepinning, concorrente numero 58, Fiorini, Capri, E6, 3 in 2, Il 1 punto lo conquista il momento, corrente numero 58, Fiorino, Simo, 23, Fiorini, 54, Fiorino, Giano, 3 giugali alterni, naturalmente per la testa della gara, che sta sempre a Gigin, per la testa del contatto. Guadagno a Gepinning, concorrente numero 28, Fiorini, Fiorini, 2 giugali alterni, 24, Fiorini, 45, Fiorini, Capri, E6, 2 giugali alterni, Il concorrente numero 46, Prisciara Luca, che sarà 4 punti, in uno il concorrente 267, Borsani, che si porta 5 punti in totale. Siamo all'ultimo passaggio, quello della campana, che avranno segnati gli ultimi punti, Borsani. Allora, veniamo più di due punti, concorrente numero 108, Fiorini e Gabriele, ha 4 punti, un punto, ha capitato i concorrenti 267, Borsani, che si fa le nostre domeniche in dettaglio, si vede una conseguenza, adesso Stavri, 3 atleti con 4 punti, Sala Luca, Rontano e Simone, e Fiorini e Gabriele, che è decisiva la volanza finale, che abbiamo giusto in presto istante, proprio in presto momento, per questi attiviti che ci hanno regalato nel contesto finale, 2000 punti di semata alla categoria, ragazzi, 12 punti. Gara qui, capiandoci alla sua conclusione, per aver registrato anche per presentarvi, naturalmente per poter spillare, in modo preciso, e compito la scelta intera, per fare conto alla finale del 2000 punti, ragazzi, 12 punti. Grazie.